E' stato il solo insuccesso italiano nei giochi ciclistici. La prima vittoria azzurra si ebbe nella prova di cronometro a squadre cui parteciparono 25 nazioni. 100 chilometri di cecari in corsa, tutti e quattro i componenti d'equipaggio legati alle reciproche debolezze. La giovane squadra italiana aumentò il vantaggio giro per giro. Giacomo Fornoni, spazzacamino. Antonio Bailetti, fornaio. Il nominato Livio Trappè, Ottavio Cogliati, meccanico. Sulla strada della vittoria la squadra azzurra raggiunse avversari partiti prima e li rimorchiò come naufraghi. E dopo due ore e quattordici primi di corsa, irruppe sul traguardo, accompagnata da una scorta d'onore di belgi e spagnoli. Il nominato Livio Trappè, Ottavio Cogliati, meccanico. Grazie. Grazie. Grazie.